Dario Daroit, 14 anni in Serie A, una vita dedicata al volle e adesso è team manager del Pineto. Sì, dopo tanti anni passati in campo, ho scelto di mettere a disposizione quella che è la mia esperienza, maturata in tutti questi anni di pallavolo ad altissimo livello, per una società come il Pineto, che quest'anno ha ambizioni importanti e quindi lavorare per loro, per il gruppo, per cercare di raggiungere la famosa promozione che ormai sono tanti anni che Pineto cerca di portare a casa. Adesso il Pineto è il primo in classifica in Serie B. Sì, noi siamo primi in classifica in Serie B, giochiamo il 12 gennaio in casa contro il Bari, che è seconda in classifica, una partita molto importante per il proseguo del campionato. Questo torneo è un torneo che ci voleva, oltre che essere un torneo ben organizzato, faccio i complimenti a Gigi Provisiero, intanto per l'invito, per l'alto livello del torneo. Abbiamo giocato contro una squadra che prima nell'altro girone, avevamo necessità in questo periodo di pausa di fare delle partite importanti, è stata un'occasione importante in una città bella come quella di Teramo.